In quel tempo, cioè oggi, in questo momento, in questo tempo, Maria dice l'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore e tutto quello che dice Maria in questo cantico meraviglioso lo dice per il suo figlio Gesù Cristo e quindi per te. Perché tutto quello che è di Maria è per il Signore, ma tutto quello che è del Signore è per te. Non è che stanno lì loro due, mamma e figlio, e dice va bene, ce la siamo suonata, ce la siamo cantata, siamo felici. No, tutto quello che è di Maria è per te, per la tua salvezza. Maria è stata scelta per te e per me. Ma non è immacolata così perché il Signore dice va bene, nella produzione di tutti i miliardi degli uomini facciamone una perfetta, senza peccato. Vediamo come viene. Non ha giocato Dio. Dio ha fatto questo per te, capito? Maria è per te. Tutto quello che si dice di Maria, si dice della Chiesa, dicono i padri, e si dice di te, perché se è tua madre le assomiglierai. Se il figlio ha preso la carne da Maria, il carattere umano da Maria, i tratti somatici umani da Maria, tu no? Ma certamente, certamente che tu e io possiamo prendere ogni giorno da Maria, che è la Chiesa, che è la nostra madre, i suoi tratti somatici, la sua fede, la sua speranza, la sua carità. Per questo l'anima mia magnifica il Signore perché ha guardato l'umiltà, l'umiliazione, la più piccola di tutte le creature, senza peccato per avvicinare tutti i piccoli, disgraziati, gli ultimi, i rifiutati, quelli caduti nei peccati più atroci, distrutti dalla vita, perché la grazia, la immacolatezza, Dio potesse toccare l'impuro, potesse toccare l'orrore, potesse toccare il peccato, perché Dio, il cielo, la purezza, la santità, potesse arrivare a quanto da Lui è più lontano, te e io. Quando mormoriamo, quando giudichiamo, quando abbiamo rancori, quando abbiamo i pensieri peggiori, quando ci chiudiamo in noi stessi, in egoesimo, ha fatto grandi cose in me, che cosa ha fatto Dio nella Vergine Maria? Ha fatto che in una Vergine potesse nascere il Signore, perché in quello stesso seno una pietra, che sei tu, potesse diventare figlio di Abramo, un peccatore potesse diventare figlio di Dio. Possiamo continuare. Lui ha spiegato la potenza del suo braccio sulla croce per abbracciarti, Lui ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore quante volte, con le umiliazioni, con la storia impastata di amore, dalla sua misericordia ha disperso i pensieri del nostro cuore e ci ha portato a umiliarci davanti al fratello, a entrare nella sua volontà, ha innalzato gli umili, ha innalzato quelli che proprio non ce la fanno, a fare nulla, perché questi sono gli umili, eh? Gli umili non sono quelli con la faccia così, con la vocina tutta piccolina e no, io non posso, no, no. L'umile è quello che conosce se stesso e sa che non può fare nulla se non peccare, diverso. E gli affamati, ricolmati di beni, sei tu, sei tu, sei tu che ti è stato rimandato a mani vuote tante volte che hai pensato di essere ricco, superbo, di poter gestire la tua vita e i tuoi figli. Lui ti ama e Maria è il segno dell'amore di Dio per te. Ha pensato una donna per te. Ha pensato di preservare dal male, dal peccato una donna, per fare di te una persona nuova, libera dal peccato. Pensa che questa donna è Maria, che questa donna è la tua madre, la Chiesa. Anche se una madre dimenticasse il suo figlio, io non ti dimenticherò mai. Questo dice il Signore, lo dice di sua madre. L'unica donna che non ha dimenticato te e me, peccatore. L'unica donna che non vuole cambiare nulla di te e di me, se non rigenerarti e fare di te una creazione nuova, così come sei. Non finiremo mai. Perché questo canto esalta la fedeltà di Dio alle sue promesse, la sua misericordia. Questo canto appartiene a tutti noi, perché è il canto di nostra madre. E il canto di nostra madre non può che essere il nostro canto. Il suo seno è il nostro porto sicuro. Il suo utero, che è l'utero della Chiesa, ci ha gestato, continua a gestarci, a formarci, ci ha rigenerato, continua a rigenerarci, ci ha partorito e continua a partorirci. E non solo, ma Maria continua ad accompagnarci giorno per giorno, nella misericordia. La misericordia, sappiamo che in ebraico questo termine deriva da Rahamin, che sono le viscele di una donna. Il luogo della misericordia è vero che è il cuore, ma è anche l'utero, è anche il seno di una donna, di questa donna immacolata, che ci immerge ogni giorno in questa immacolatezza, in questa purezza rigenerante, che fa di noi sempre una creazione nuova. La misericordia del Signore, sempre in azione. Questa meraviglia, che è il Magnificat, che è l'esultazione di Maria, è la tua gioia. Oggi che tutti stanno annunciando catastrofi vicine, e che non abbiamo nessun diritto di gioire, e di festeggiare nulla, che nel mondo basta un virus per essere distrutto, per essere chiuso, per ritornarsi nell'egoismo, per noi non è vero, per noi non c'è nulla che possa toglierci la gioia, anzi, anzi, possono cadere le bombe, possono arrivare virus, possiamo stare sofferenti in un letto di ospedale, possiamo avere tutto congiurando contro, ma siamo dentro queste viscele di misericordia della Chiesa, che esulta per te, per te come non puoi esultare oggi per tanto amore riversato su di te, come puoi non essere pieno di gratitudine, di stupore davanti a uno che veramente ti ama, che veramente guarda te e dice mamma mia che meraviglia, dice il Salmo 102, canterò senza fine le grazie del Signore, perché la sua fedeltà dura in eterno, lui ha sempre pietà, e perdona tutte le nostre colpe, guarisce tutte le nostre malattie, non resta adirato con noi, sa di che cosa siamo fatti, ma Maria sa di essere terra, Maria sa di essere piccolissima, piccola vergine d'Israele, e noi, lo sappiamo, abbiamo bisogno di essere formati, istruiti sulla nostra realtà, conoscere chi veramente siamo, sapete che siamo come erba del campo, che oggi c'è e domani non c'è, che siamo come terra, come polvere, eppure Dio ha guardato questa polvere per formare un'immagine e somiglianza di Lui, per dare corpo e carne al suo amore, al suo spirito, e il suo figlio è la perfezione di questo progetto d'amore, ha creato noi in Cristo, in vista di Cristo, e dentro questo progetto, questo pensiero eterno di Dio, che si è realizzato nel tempo, in te e in me, e il suo compimento, che è il suo figlio fatto uomo, il suo figlio eterno, che prende la nostra carne, c'è la nostra debolezza, ci sono le nostre cadute, ma che sono un soffio nell'eternità, per questo Dio che sa chi siamo, e ci ha creato così, per poter avere misericordia di noi, per poter riversare su di noi tutto il suo amore infinito, come la terra non è più abbandonata, diceva il Salmo, la terra ha trovato il suo sposo, questa terra che sei tu, che tutti magari disprezzano, e che tu stesso sei il primo che disprezza, e che non sopporta, e che vorrebbe cambiare, trova uno sposo, attraverso il seno benedetto di Maria, dove anche tu oggi, e ogni giorno, sei rigenerato, e sei figlio nel figlio di Dio, pensa un po', allora possiamo entrare in questo tempo, in qualunque tempo, gioendo di gioia indescrivibile, che non viene da questo mondo.